È responsabilità del valutatore cercare di rendere utile, utilizzabile, fruibile il suo lavoro. Questa sensibilità del valutatore deve iniziare sin dalla redazione del rapporto finale. Io penso che ci siano sostanzialmente tre parti da curare. Prima di tutto, un rapporto valutativo presenta la sintesi dei risultati. La sintesi deve essere una sintesi. Tre pagine, quattro, cinque pagine al massimo. La seconda parte, invece, è il testo principale, il corpo principale che raccoglie e riassume tutte le attività che avete fatto, tutti i risultati che avete trovato. Attenzione però, questa parte centrale non può essere esorbitante, noiosa, piena zeppa di tabelle, con tutti i trascritti dei focus group, eccetera. Quelli vanno nella terza parte di allegati appendici. Il corpo principale del vostro testo deve essere un corpo leggibile, cinquanta pagine, sessanta, ottanta pagine se avete fatto una ricerca piena di cose, con tanti risultati. Perché deve poter essere letta in maniera normale da chi comunque ha non tantissimo tempo e non tutte le competenze tecniche e metodologiche che avete voi. Chi è questo lettore? Il vostro committente è l'utilizzatore della valutazione. Tutte le tabelle, tutti gli allegati, tutte le disquisizioni metodologiche, eccetera, 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 in allegato. Questo è un buon rapporto di valutazione.